La Dinamo ha ripreso gli allenamenti e ieri a Cagliari si è presentata nello storico impianto dell'Esperia. Abbiamo incontrato il presidente FIP Sardegna, Bruno Perra. La Nazionale ha vincendo queste due partite, ha fatto un bel passo avanti verso la qualificazione per i mondiali. Non era semplice, dal punto di vista mentale si poteva rischiare soprattutto contro la Croazia di fare una partita mediocre. Invece hanno giocato molto meglio rispetto a quella con la Romania. Abbiamo visto dei giocatori come della Valle e Abba soprattutto che sono entrati subito nel clima della Nazionale. Credo che ci si possa augurare che questa Nazionale possa partecipare finalmente a un campionato del mondo da qualificata. Questa sosta crediamo possa aver fatto bene i ragazzi di coach Pasquini? Sicuramente ha fatto bene perché dovevano recuperare qualche giocatore da qualche infortunio, qualche giocatore importante come Stipvic e probabilmente era necessario. Devo dire che hanno chiuso questa parte del campionato molto bene con la vittoria sia in Coppa che in trasferta a Varese giocando in maniera autorevole. Credo che ripartiranno sicuramente con la stessa intensità, con la stessa voglia di provare a farti qualcosa di importante. È chiaro che il mese di dicembre sarà un mese molto particolare, molto difficile perché trasferte lunghe, difficili, in campi obiettivamente non semplici. Però credo che piano piano la squadra si stia veramente compattando, stia acquistando autostima e stia crescendo. Bravi a tutti e speriamo di continuare così.